O Arcangelo Raffaele, il cui nome significa Dio guarisce, tu che a Tobia nelle Sacre Scritture ti sei svelato come colui che presenta il ricordo delle preghiere davanti alla gloria del Signore, ricordati di presentare anche le mie umili preghiere davanti al Signore. Ti chiedo di intercedere anche per me, per poter guarire dalla malattia che tanto mi affligge. Io so che nulla è impossibile a Dio ed è per questo che tu hai aiutato a guarire Tobit, il padre di Tobia, dalla sua cecità. Ma se è volontà di Dio che io continui a soffrire per questa malattia, aiutami a guarire dalle infermità psichiche e spirituali che mi rendono spesso incostante nella via della salvezza. Confido nella tua intercessione e ti ringrazio di cuore per tutto quello che fai per me nel Signore.